Accanto a lui, perché non avverto mia madre che è trapassata da poco tempo? Commento Perché chi rimane nel piano fisico non può percepire il piano astrale, non può essere consapevole della presenza, accanto a lui, del trapassato che vive nell'astrale. Il piano di esistenza superiore controlla sempre l'inferiore perché la materia del piano superiore è meno densa, per questo i maestri immateriali ripetono che il distacco è solo per chi resta.